Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio. Mattia Sarchic, il portiere 26enne del Millwalk e della Nazionale del Montenegro, è deceduto a seguito di un malore improvviso nella sua casa di Budva. La triste notizia è stata resa pubblica dalla Federcalcio Montenegrina. Sarchic aveva disputato la sua ultima partita il 5 giugno, un amichevole contro il Belgio, in cui il Montenegro aveva subito una sconfitta per 2-0. Era un membro molto amato della nostra Nazionale, un ragazzo sempre con il sorriso. Si legge nel comunicato diffuso dalla Federazione. La sua scomparsa ci provoca un'enorme pena. L'annuncio ha scosso profondamente il mondo del calcio, suscitando grande commozione tra compagni di squadra, tifosi e appassionati di gioco. La comunità calcistica si è stretta attorno alla famiglia di Sarchic e ai suoi cari, in questo momento di dolore. Il giovane portiere era considerato una promessa del calcio, apprezzato non solo per le sue abilità tecniche, ma anche per il suo carattere solare e la sua disponibilità verso gli altri.